festa della musica la organizziamo a brescia dal 2014 i risultati che sono andati ben oltre quello che si aspettavamo partendo proprio dal nome francese fed la music che riprene due nozioni fare la festa alla musica e l'altra che anche un invito a fare della musica questi sono i due principi basi e il discorso poco importa dunque il livello di chi partecipa l'importante è proprio partecipare il fatto che deve essere la festa della musica di tutti per noi è una cosa anche molto molto importante e non casualmente portiamo anche la festa della musica nei luoghi chiamiamoli un po emarginati come i centri per anziani gli ospedali carcere in questa situazione primo anno erano soltanto le realtà locale questo ha fatto prendere coscienza al stesso mondo musicale di quanto era attivo da una parte seconda parte da parte del pubblico di stupirsi di quanto aveva al suo in questa città e da parte dell'istituzione di quanto c'era al punto che proprio sin da dopo la prima edizione della festa in assessorato alla cultura brescia abbiamo adesso una persona che si occupa soltanto disclusivamente di musica chi si iscrive partecipa suona e tutti devono essere messi nelle stesse condizioni tecniche di tempo per suonare dunque noi la regola è mezz'ora si suona per mezz'ora su un palco altezzato anche con un backline e dieci minuti di cambio pari tutti sono messi in condizioni paritarie anche tecnicamente l'ultima edizione sono stati ufficialmente 790 concerti su quasi di uno centinaio di situazioni diverse in tutta la città più le situazioni che nascono poi spontaneamente perché non lasciamo spazio anche a quello noi abbiamo contattato le varie realtà musicale della città dal conservatorio a etichette discografiche locale a associazione scuole di musica tutto quanto e abbiamo invitato tutti quanti a partecipare portare quello che è il loro diciamo essere e la magia che c'è stata credo è che ognuno ha costruito il pezzettino il suo pezzettino e quel giorno tutti i pezzettini si sono messi insieme per fare un grande puzzle il castello della città in mano a ragazzi di 24 25 anni che hanno fatto tre situazioni nel castello di musica elettronica che hanno attirato più di 10.000 persone con paure sicuramente da parte di certa istituzione perché giovani musica elettronica finirei in rave non rispetteranno niente invece è filato tutto liscio perfettamente sia da un punto di vista organizzativo che di rispetto diciamo delle regole sono arrivate su Brescia più di 100.000 persone da fuori provincia questa dà un po' un po' un'idea di quella dimensione che ha preso questa iniziativa in città e la cosa veramente molto bella è che quel giorno si vede una città proprio col sorriso c'è un'atmosfera di festa che è veramente qualcosa di incredibile devo dire che mi commuovo quasi sempre a parlare di questo aspetto perché è veramente molto molto bella e questa modalità di fare della festa della musica dunque di buttare la musica per strada ha cambiato anche il modo di fare cultura a Brescia cioè nel senso che notte dei musei notte della cultura non è più soltanto i musei aperti sono allestimenti per strada sono performance per strada che hanno un impatto ovviamente sulla cittadinanza che è qualcosa di incredibile sono cresciute in modo esponenziale visite ai stessi musei eccetera con queste modalità è un'iniziativa veramente magica cioè come ho detto porta veramente il sorriso alla città